Sì, grazie per la linea. Dunque, vigilia di Lecce-Pescara. È la prima finale, sono otto le gare che restano qui alla fine della stagione. Lecce-Pescara domani sera ore 21, importanti i rientri di Campagnaro, Brugman e Mancuso. Brugman giocherà in una posizione inedita, se vogliamo, un po' come con Marino nel 2013, con Bruno che gli coprirà le spalle. Non sarà un vero e proprio trequartista, avrà più libertà di movimento tra la fascia centrale e la trequarti. Pillon ha dichiarato testualmente, andremo a Lecce per giocarcela, l'atteggiamento sarà propositivo. Ascoltiamo dunque le parole pronunciate in conferenza stampa dal tecnico di Preganziol. Al di là dei numeri, sostanzialmente Brugman non sarà un vero e proprio trequartista, avrà la possibilità però di muoversi più liberamente, sgravato da compiti di copertura, perché avrà le spalle Bruno. Sì, dobbiamo considerare tutti gli aspetti, gli avversari, è tutto considerato, tutta questa cosa qui. Credo che in quel ruolo Brugman possa essere molto molto importante. Poi è solo la verifica del campo che ci dirà se sarà giusta, se sarà sbagliata, se avrò fatto una cavolata. Però io credo che potremo far bene così. Adesso chiaramente dipende sempre dalla prestazione di domani. Lì sarà la verità, verrà fuori lì. Mister, il Lecce è una delle squadre che giocano meglio in questo campionato insieme con il Cittadella e con il Brescia. Una squadra che parleggia bene, riempie benissimo l'area avversaria con gli attaccanti, ma anche con l'inserimento dei centrocampisti. E poi è una squadra molto abile e strutturata nel gioco aereo, no? Hai indovinato tutto, nel senso che tutte queste caratteristiche ce l'hanno, giocano un ottimo calcio, sono molto propositivi, attaccano con tanti giocatori. È una squadra che in questo momento è in grandi condizioni, sia fisica che mentale, visto le prestazioni che hanno avuto. Però ci siamo anche noi, non andremo certamente a difendereci, se lasci giocare loro vai in balia a loro. Noi non dobbiamo permettere questo, noi dobbiamo cercare di giocare le nostre armi, che sono il gioco che abbiamo sempre cercato di fare. Alle volte ci siamo riusciti, alle volte no, come ho detto precedentemente, però questa è l'intenzione della partita. Una curiosità, in fase di un possesso, chi andrà a schermare Taxidis? Marras oppure magari si alzerà uno dei centrocampisti? Bella domanda questa. Sì, no, l'idea è quella che va sempre un giocatore su di lui e l'altro sfruttando più di movimento, perciò l'idea è quella. Sì, sta bene adesso. In questo momento fisicamente, anche grazie al lavoro di questi 15 giorni, è stato importante questo per lui. Adesso è in condizione di giocare. Pinto andrebbe a contrastare meglio un giocatore brevilino come Falco? Sì, ci sono tante situazioni che bisogna valutare bene, le scelte. Poi si cerca sempre, l'allenatore cerca sempre di venire in mente la partita. Io nella mia mente ce l'ho la partita e anche le scelte le fai in funzione a quello che ho dentro la mia testa. Queste dunque le parole di Beppi Pillod, la vigilia di Lecce Pescara, l'arbitro è Ross di Pordenone e tutto dal poggio degli olivi. La linea può tornare a te.